Ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome Rossella Pani oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo c potrete scegliere un gruppo di appartenenza due o tutti e tre naturalmente prima della lettura vi centrate nel vostro sacro cuore e chiedete all'arcangelo Michele e ai vostri angeli custodi qual è il gruppo di appartenenza o i gruppi di appartenenza più giusti per voi iniziamo con una bella preghiera di protezione invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono la lettura invoco te arcangelo Michele invoco il maestro Gesù Maria Regina Celeste coscienza micaelica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di tagliare tutte le corde goiche di paura di rabbia di gelosia di competizione tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio arcangelo Michele ti chiedo di elevare la nostra energia vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato arcangelo Michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione completo impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione guida ed assistenza grazie 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 è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre e per l'eternità ok iniziamo a mischiare le carte dell'arcangelo Michele uscita la prima carta per il gruppo a proteggi te stesso proteggi te stessa gruppo b vai avanti senza paura gruppo c difeso e protetto vediamo il secondo mazzo di carte dell'arcangelo Michele eccola qui gruppo a si luce per le altre persone vediamo il gruppo b sono uscite due carte la prima è aumenta la tua conoscenza e non avere paura ok e vai avanti senza paura nello stesso gruppo la prima carta va avanti senza paura non avere paura quindi vuol dire che in questo gruppo ci sono persone che in questo momento stanno vivendo un po' di tensione mancanza di fede di fiducia poi lo vediamo nello specifico vediamo il gruppo c invece cosa ci vuole dire l'arcangelo Michele cos'è il meglio per il gruppo c ecco qua ok metti come priorità il tuo cioè prenditi cura di te stesso e di te stessa praticamente come priorità ok se una persona che sei molto nel dare è venuto il momento di ricevere gruppo c vediamo un po' le carte delle fatte che messaggio hanno per noi gruppo a depurati ok gruppo b sono un po' suddivise questa volta le letture vuol dire ci sono proprio delle differenze per il gruppo b rimani saldo rimani salda gruppo c è volata via vediamo un po' una nuova opportunità bene molto interessante ok vediamo un po' gruppo a iniziamo la nostra lettura proteggi te stesso proteggi te stessa sei un po' esposto esposta ad energie di bassa frequenza molto probabilmente luogo in cui lavori o i tuoi cari o le persone che frequenti in questo momento hanno delle delle energie di bassa frequenza che a qualche livello ti stanno ti stanno come dire influenzando quindi c'è bisogno di maggiore protezione quindi più preghiera chiede aiuto all'arcangelo michele potresti fare le preghiere da me scritte o che trovi anche su youtube sulla protezione la liberazione la guarigione sono un ultimo strumento per schermarti perché tendi troppo ad assorbire le energie degli altri sei come una spugna quindi assolutamente sei un operatore voglio dire della luce devi essere un faro per gli altri non puoi permetterti di essere scarico scarica energeticamente il tuo compito è quello di essere esempio di amore per gli altri hai anche un potente messaggio da condividere o nel tuo lavoro o nella tua carriera o come missione di vita è proprio quella di essere anche uno speaker una persona influente che influenza positivamente gli altri hai una grande esperienza di vita e puoi essere veramente di aiuto per le altre persone assolutamente irradia la tua luce nel mondo affinché gli altri possano imparare da te ma prima di dire agli altri tra virgolette quello che devono fare fallo tu cioè proteggiti si un canale pulito si esempio di amore per gli altri va bene e poi depurati disintossicati cerca di privilegiare un'alimentazione vegetale lascia andare gli additivi lascia andare le sostanze chimiche gli zuccheri bevi tanta acqua fai attività fisica insomma prenditi cura di te stesso prenditi cura di te stessa va bene anima bella bene passiamo al gruppo b vai avanti senza paura ok non avere paura anche qua ok quindi assolutamente se praticamente hai la sua domanda riguarda diciamo un progetto o devi affrontare una sfida oppure si può si può trattare dice l'arcangelo michele anche di una visita medica di un controllo di un risultato medico o di un risultato nella tua vita in generale cerca di non aver paura continua ad avere fede e fiducia nella coscienza mica elica e michele chiedi aiuto agli angeli prega chiedi sostegno perché le tue preghiere sono ascoltate va bene la paura è l'ego è l'ego che ti frena è l'ego che ti blocca gli angeli e l'arcangelo michele ti stanno dicendo dammi il permesso di aiutarti per eliminare questi sentimenti di inquietudine di paura va bene oltretutto sei portato sei portata ad elevare incentivare quella che la tua conoscenza quindi leggi quel libro scrivi iscriviti a quel corso di formazione documentati vai avanti nella ricerca non sei arrivato non sei arrivata per fare un salto quantico nella tua vita hai bisogno di completare il puzzle di completare la tua formazione quindi rimani radicato rimani radicata centrata perché veramente c'è tanto da come dire c'è tanto da imparare c'è tanto da fare ok i tuoi progetti si verranno si realizzeranno andrà tutto bene rimani forte rimani centrato rimani centrata perché questo è un momento molto importante è una sfida importante nella tua vita quindi chiede aiuto e sostegno agli angeli all'arcangelo michele ok gruppo c sei difeso sei protetto sei protetta le tue preghiere sono ascoltate sei al sicuro va bene diciamo che diciamo che l'arcangelo michele sta vegliando su di te e sui tuoi cari però ti sta invitando anche ad aiutare te stesso e te stessa come attraverso come dire un prenderti cura di te un coccolarti anche va bene magari riposa di più medita di più fai un po di esercizio fisico divertiti un po ridi guarda un bel film legge un bel libro fai qualcosa che ti dia gioia ok poi diciamo che tu sei una persona che dai tanto e diciamo che meriti anche tu di ricevere dagli altri quindi se qualcuno ti sta offrendo il suo aiuto o ti sta porgendo la mano verso di te ti sta ti sta invitando in una certa direzione accogli l'invito accetta questo aiuto perché meriti di ricevere cose grandi dalla vita ok quindi potrebbe anche essere una grande opportunità una nuova opportunità alle porte che possa essere di lavoro che possa essere un viaggio che possa essere nuovi orizzonti un trasferimento di città una nuova casa una nuova relazione sta arrivando qualcosa di grande per te quindi accoglilo con amore perché meriti di ricevere grandi cose anima infinita ok prima di finire chiediamo all'arcangelo michele che messaggio ha per noi attraverso la lettura di questo libro per il massimo bene di tutte le persone coinvolte ci vuole tempo dicono gli angeli ok ci vuole tempo chi pretende troppo nel miglior tempo possibile rischia di perdere tutto ciò che ha investito il tempo è l'unico ingrediente indispensabile per la crescita di ogni progetto importante pazienza e fermezza saranno ripagate bene a livello infinita per questa settimana la lettura è finita volevo ringraziarvi per tutti coloro che si sono iscritti al mio corso di guarigione che è iniziato il 9 settembre il nuovo corso di guarigione online su zoom inizierà il 25 di ottobre diciamo che c'è posto se ti interessa puoi contattarmi contattarmi se invece sei interessato a fare del coaching one to one con me o con logo ceiling o il lavoro di manifestazione o delle letture angelico delle guarigioni delle sessioni private di guarigione contattami privatamente io vi saluto vi auguro una settimana meravigliosa e a presto un bacione ciao ciao ciao